Questo video non vuole ledere né minacciare in alcun modo le persone che ho ritratto. Questo video è un semplice ASMR dove distruggerò in maniera suave alcuni miei disegni. Spero vi possa intrattenere e soprattutto prendetela con ironia. Questo video non vuole rappresentare alcun tipo di violenza, ma è solo un passaggio. Una fase di transizione dal passato a un sereno futuro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.